We are anonymous with pusher, we are religion, we do not forgive, we do not forget, expect us. Questo è un messaggio per tutti gli istruttori, il pulizzo del gioco degli scacchi, i maestri che si riempiono la bocca di frasi come attacco di migraianza e pedone isolato. Ci rivolgiamo anche a tutti coloro che seguono il computer come se fosse un dio, quindi fanno analizzare le partite e poi si vantano nel trovato delle novità o delle confrontazioni. Voi incatenate il gioco degli scacchi e una serie di convenzioni che rendono un uomo schiavo. Voi che deledete coloro che fanno mosse strane o anche sbagliate, siete i demolitori di questo gioco. E ora che la fantasia torni al potere, e ora che la scacchista meglio si livelli e segua un suo leader. Il nostro leader è il maestro internazionale inglese Michael Basman, uno dei giocatori più geniali degli ultimi secoli.